Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi sono messa un po' tipo obliqua perché qui ho le due bimbe femmine mentre invece il maschietto è fuori con la cucciolona, quella grande e vi volevo parlare di un animaletto che personalmente io adoro io veramente sto un sacco di tempo sul web a cercare magari i video sono anche iscritta a un gruppo facebook dove vedo le foto di quelli che ce l'hanno e insomma sono proprio innamorata, sono degli animali che proprio mi ispirano troppa dolcezza, tenerezza e simpatia soprattutto mi ispirano tanta simpatia e ho fatto diverse ricerche su di loro e adesso volevo un pochino parlarvene così ve li faccio conoscere anche a voi se non li conoscete o magari se volete sapere qualcosa, qualche curiosità in più che non sapevate spero che questo video vi possa piacere il cane della prateria che di cane non ha in realtà niente a parte il latrato a cui cioè per questo latrato gli hanno dato questo nome è un animale originario degli Stati Uniti e appartiene alla stessa famiglia degli scogliattoli che è quella degli sciuridi e ovviamente è un mammifero ed è un roditore è un erbivoro stretto quindi se lo acquistate l'alimentazione è praticamente identica a quella del coniglio se non sapete l'alimentazione giusta del coniglio perché in realtà molti, anzi quasi tutti i cibi presenti in commercio per i conigli in realtà non vanno assolutissimamente bene è idem per questi animaletti siccome il discorso alimentazione è lunghissimo se vi interessa andatevi a guardare il mio video sull'alimentazione del coniglio che diciamo che anche il coniglio è un erbivoro stretto come il cane della prateria e quindi mangiano praticamente le stesse identiche cose e un'altra cosa che hanno in comune con i coniglietti è quella di scavare dei cunicoli delle gallerie sotterranee dove ci fanno anche le loro tane e si riparano anche dalle intemperie questi animaletti sono molto molto dinamici, amano correre, sono iperattivi e quindi ovviamente se li prendete ricordatevi che non possono stare chiusi dentro una gabbia va bene tenere una gabbia per loro ma loro devono avere comunque la possibilità di uscire ed è importante che il fondo della gabbia sia bello spesso e niente lettiere per gatti ma solo lettiere naturali come i truccioli di legno, il pellet oppure il fieno e gli fate un bello stratone così loro possono anche scavare che è una cosa che fa parte proprio della loro etologia sono animali molto piccoli che il loro peso va dai 500 grammi fino ai 2 chili all'incirca sono animali molto socievoli infatti diciamo che in natura vivono in colonie con tanti tanti esemplari e quindi se decidete di adottarne uno o ne prendete direttamente due così si fanno compagnia ovviamente più potete prenderne meglio è per loro che si fanno compagnia oppure se ne prendete uno solo sappiate che dovete dedicargli tantissimissimo tempo perché è un animale estremamente sociale e ha bisogno dell'interazione e quindi dovete dedicarvi moltissimo tempo a dedicare tanto 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 tanta energia a loro la maturità sessuale sopraggiunge dai 2 anni e le femmine vanno in calore soltanto una volta all'anno di solito a inizio primavera dove in natura hanno più cibo a disposizione in gattività possono arrivare a vivere anche fino ai 10 anni però rispettando ovviamente l'alimentazione in modo corretto e soprattutto facendo delle visite periodiche dal veterinario perché purtroppo per questi animali non esistono dei vaccini e quindi è importante controllarli molto spesso per vedere che stiano bene se correttamente imprintato fin dai primi mesi di vita lui riesce a stabilire un rapporto con gli esseri umani anche di fiducia e è molto molto diciamo morboso con il suo umano preferito però tende ad essere un pochino schivo nei confronti degli sconosciuti l'ambiente in cui vive deve essere pieno di stimoli per tenerlo sempre attivo perché lui è un animale che ha bisogno appunto di stare molto attivo anche giochini di attivazione mentale, tunnel, giochini rosicchiabili dovete cercare veramente di non farlo annoiare mai questi animali sono poco poco diffusi nel nostro paese quindi ovviamente se scegliete il veterinario dovete stare veramente attenti che sia realmente esperto in animali esotici perché un veterinario convenzionale per cani e gatti non sarà realmente capace di prendersi cura del vostro puzzolo vi consiglio se state cercando uno di questi animaletti di rivolgervi alle associazioni perché comunque essendo animali molto delicati è sempre meglio rivolgersi alle associazioni e prenderli in adozione e vi consiglio anche il gruppo facebook dove comunque tutti i proprietari di questi animaletti condividono le loro foto e potete anche scambiarvi delle opinioni magari se avete domande magari potete farvi aiutare da chi ha già avuto esperienza se avete già esperienza con loro e niente ragazzi io spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciatemi un bel like e scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne pensate di questo animaletto dolcissimo io personalmente lo adoro e niente ragazzi io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao